Questo canale è supportato da Eiprof, il nuovo servizio su abbonamento, interamento online, di aiuto agli studenti. Hai problemi a scuola? Visita il sito eiprof.com o clicca sul link in descrizione. Anni 70, Kabul. Amir, il protagonista, è un ragazzo afgano di etnia Pashtun. Hassan è di etnia Azara e dimostra una grande lealtà verso Amir, suo grande amico. Hassan lavora come domestico con suo padre Ali nella casa di Baba, amico di Ali e padre di Amir. Baba è un uomo ricco, intelligente e coraggioso, che riesce sempre a cavarsela grazie alle sue doti. Nonostante Amir sia il figlio di Baba, spesso il padre dimostra di voler più bene ad Hassan, anche quando fa di tutto per far curare il labbro leporino di Hassan, senza badare spese. Amir, accorgendosene, soffre incolpandosi per la morte di sua madre, che forse gli avrebbe voluto più bene, ed immaginandosela prima della sua morte di parto. Amir ha un rapporto molto sofferto col padre, ma riesce a trovare conforto in Raim Khan, altro amico del padre con cui condivide la passione per la letteratura e i libri. Amir e Hassan crescono insieme nella città di Kabul. La loro maggiore aspirazione è vincere l'evento del quartiere, la caccia agli aquiloni. Lo scopo di questo gioco è tagliare, col proprio aquilone, il figlio di quello degli altri giocatori. Gli aquiloni diventano di proprietà di chi li recupera, chi taglierà il filo del penultimo aquilone rimasto, vincerà la competizione e se poi riuscirà a recuperarlo potrà tenerselo come trofeo. Nonostante il talento di Hassan nel fabbricare gli aquiloni, i due bambini non riescono mai a vincere la competizione e finché Amir, proprio il giorno del suo dodicesimo compleanno, si guadagna il primo posto nella gara. Alla vittoria, suo padre Baba si mostra fiero di lui per la prima volta, resta tuttavia da recuperare l'aquilone di cui Amir ha tagliato il filo al momento della vittoria. Hassan corre a cercarlo ma si imbatte in tre bulli che già tempo prima avevano infastidito Amir. Hassan in quell'occasione l'aveva minacciati con una fionda, riuscendo a metterli in fuga, ma ora i bulli, vedendo Hassan da solo, ne approfittano per vendicarsi. Dopo averlo picchiato e violentato, lo abbandonano in un vicolo lasciandogli in cambio l'aquilone che aveva abilmente trovato per il suo amico. Amir assiste casualmente al fatto, ma è troppo pavido per intervenire. A trattenerlo non è la paura della violenza, quanto il timore di rivedersi sfuggire quell'aquilone che ha tanto desiderato e con cui pensa di conquistare finalmente la stima del padre. Il rapporto tra Amir e Hassan quindi si raffredda. Amir si sente colpevole verso l'amico di cui in qualche modo non si sente degno, ma a lui prevalgono la gelosia e l'egoismo. Amir fa di tutto per allontanare Hassan da sé e da suo padre, arrivando ad inscenare un finto furto in casa. Hassan e suo padre vanno via dalla residenza di Amir, con grande rammarico di Baba che sembra soffrirne sinceramente. Nell'81, dopo la guerra in Afghanistan, Amir e suo padre sono costretti a lasciare Kabul. Trasferitesi negli USA, ricominciano una nuova vita, non senza difficoltà e disagi. Amir cresce e si laurea in lettere. Molto spesso però deve alternare lo studio e il lavoro per aiutare il padre che si è riciclato come commerciante al mercato delle pulci dopo l'espattro forzato. Proprio qui Amir si innamora di Soraya, una giovane e benestante figlia dell'ex generale afgano Taheri. Amir e Soraya decidono di sposarsi. Il padre di lei si oppone alle nozze. Baba, che intanto si è immalato di cancro ai polmoni, in un ultimo gesto di affetto verso Amir, convince il generale a lasciare che i due giovani celebrino il loro matrimonio. Baba morirà completamente in pace con il mondo per aver visto suo figlio sposarsi. Trascorrono diversi anni. Amir, ormai maturo, è uno scrittore di successo. Tuttavia non è felice in quanto non riesce ad avere figli con la moglie Soraya, nonostante la coppia non presenti sintomi di infertilità. Nel 2001, Rahim, il vecchio amico di Baba, telefona ad Amir dal Pakistan dicendogli che c'è qualcosa che potrebbe fare per il suo amico di infanzia Hassan. Amir, da vent'anni preso dai sensi di colpa nei confronti di Hassan, torna in oriente a Peshawar e incontra Rahim, che gli racconta la storia di Hassan. Il bambino, una volta cresciuto, si è sposato e ha avuto un figlio, Sorab. Hassan e la sua famiglia hanno vissuto nell'ex abitazione di Baba, una volta che loro se ne erano andati. Purtroppo Hassan e la moglie sono stati uccisi dai talebani per pur odio razziale e Sorab è finito in un orfanotrofio. Amir scopre inoltre che Hassan era nato da una relazione tra Baba e l'ormai defunta moglie di Ali, la sua domestica Hassan Awbar, e che quindi il suo amico di infanzia era in realtà il suo fratellastro. Amir decide di cercare il suo nipote con l'aiuto di Farid, da anni nuovo amico di Rahim dopo la partenza di Baba. I due si travestono da talebani e tornano in Afghanistan, al centro di Kabul. All'orfanotrofio scoprono che un talebano diverse volte ha portato via bambini e bambine che quasi mai sono tornati. Così Amir e Farid continuano a cercare Sorab contattando il talebano in questione durante un'esecuzione allo stadio. Arrivati al complesso del talebano, Amir scopre che si tratta di Assef, il ragazzo che aveva stuprato Hassan quando era bambino e che anni dopo l'aveva ucciso insieme alla moglie e che ora ha comandato dai talebani che uccide violenti a bambini dell'orfanotrofio. Assef riconosce Amir e fa portare Sorab, che era stato appena catturato dall'orfanotrofio. Ordina inoltre le guardie di lasciare andare Amir con il bambino se Amir dovesse sopravvivere alla lotta. Assef attacca quindi Amir con il vecchio pugno di ferro e lo riduce in fin di vita. Ma Amir ride perché si sente finalmente liberato dal senso di colpa per non aver aiutato Hassan anni prima. Sorab, vedendo Amir in difficoltà, proprio come il padre in passato, si ribella, punta la vecchia fionda del padre con una biglia contro la testa di Assef e prima che il talebano gli salte addosso lo acceca, trapassandogli l'occhio e lasciandolo solo ad urlare di dolore. Insieme, zio e nipote scappano e, con Farid, raggiungono il Pakistan dove Amir viene ricoverato in ospedale. Racconta tutto il suo passato a Sorab e poco a poco si guadagna la sua fiducia e lo convince a venire con lui in America. A Islamabad, Amir cerca di ottenere l'adozione di Sorab all'ambasciata americana, ma non potendo documentare la morte dei genitori, e capisce che l'unico modo è far passare il bambino per un neofranotrofio. Lo comunica il bambino che, sconvolto dall'idea di entrare in una nuova casa degli orrori, tenta il suicidio tagliandosi i polsi. I medici lo salvano, ma Sorab ormai si sente tradito definitivamente. Però, dopo aver risolto la pratica del viso e dell'adozione grazie a sua moglie, Soraya, Amir torna con il nipote in America dove Sorab passa un anno in totale silenzio per riprendersi da tutti gli orrori. Un giorno, durante una caccia agli aquiloni il primo giorno di primavera e capodanno afghane in America, un angolo della sua bocca si piega ad un fugace sorriso, la prima crepa felice nel muro che ha creato tra lui e il mondo, e superando gli orrori vissuti, prima di andare a scuola, esce di casa con lo zio padre dottivo Amir e Soraya a vedere gli aquiloni nel cielo di San Francisco. Un romanzo forte, attuale. L'autore ci regala pagina dal contenuto brutalmente realistico che smuovono qualsiasi coscienza. Piccole cose paurose, il nuovo libro di Ivano Mingotti.